una canzone che a me piace particolarmente di un gruppo che ha cambiato cantante nel suo percorso artistico mi piaceva forse molto di più la prima cantante che quella attuale non me ne voglia però stiamo parlando degli hooverphonic che sono non è una canzone va bene la canzone me la facciamo sentire live qui a radio 105 non vedo l'ora guarda ecco not too bad can someone tell me if it's wrong to be so mad about you mad about you mad trouble is your middle name but in the end you're not too bad can someone tell me if it's wrong to be so mad about you mad about you mad about you mad about you splash ma come fa mi spieghi come fa non la sopporto ma mi spieghi come mi da un nervoso fastidio guarda sembra un disco io ho un invidia troppo brava sembra finta guarda che non ha cantato live guarda veramente le conficherei le penne nella schiena no ma fallo fallo ma anche quando sai cosa quando fai io faccio del mio meglio voi mi ripagate così sai qual è la cosa più schifosa è che quando fai i giochetti con la voce ti escono perfetti ma quando io ti guardavo volevo fare mad about you indicandoti e tu non capivo dove guardavi questi occhiali da sole maledetto sai che qual è la cosa più schifosa è che lei arriva qua la mattina e canta già così voi pensate ah ma vanno studiato ore e ore e ore arriva ti guarda cosa facciamo sì no va bene ma porca ti dice non c'ho il testo